ciao a tutti benvenuti su MyFootballJersey io sono Stefano e oggi vi presento la prima maglia del Manchester United per la stagione 21-22 nella versione player quella cioè indossata dai calciatori come vedete la maglia rossa con tutte le rifiniture bianche che vanno sia dai bordi delle maniche del colletto oppure il colore del degli sponsor nella versione player come al solito lo stemma del club il logo adidas e il main sponsor sono termosaldati questo si vede anche all'interno dove non sono presenti cuciture sulla sinistra presente il tag adidas che contraddistingue la versione player la maglia è realizzata con la tecnologia alidas hit ready lo sponsor sulla manica è termosaldato dietro il collo c'è un piccolo diavoletto che ricorda il nome appunto dei red devils all'interno sono presenti le varie etichette alidas tra cui quella col QR code in controluce è possibile vedere la trama del tessuto hit ready allora cosa ne pensate vi è piaciuta secondo me è una bella maglia nella mia classifica prende tre stelle è comunque una maglia da avere la maglia del Manchester United la maglia di Cristiano Ronaldo ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità e le misure se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale ci vediamo al prossimo appuntamento ciao io sono alto un metro 75 e peso 70 kg quella che vedete è una taglia large della versione player ci vediamo a tutti c'è qualcosa di uscita ci vedete è un ascolto